Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco, 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 come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, no, il libro no, se è già visto il libro delle favole che si aprono. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia? Raccontami una storia. E poi, tutti a nanna, mi raccomando. Da mormorare per addormentarsi. Dormi, dormi dolcemente, pensa tutto, pensa niente. L'orologio nel salotto fa tittà tutta la notte. Il cuscino sotto la faccia, l'orsacchiotto tra le braccia. La mia mamma ed il papà, quel che amo, è tutto qua. Nessun luogo è come il letto, così morbido e perfetto. Cosa voglio per domani? Un bel pieno di emozioni. Dormi, dormi dolcemente, pensa tutto, pensa niente. E ti cullano le onde nei tuoi sogni più profondi. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte e sogni d'oro.